buongiorno a tutti ragazzi giriamo le nostre cartine che sono già giù già giù e cominciamo studenti come sempre mettete in pausa e date la vostra intanto vi faccio vedere le carte e le guardo anch'io oggi abbiamo un 4 di bastoni rovesciato un 6 di bastoni rovesciato e la carta del sole ma che bello guarda proprio quando tutto va a rotoli in realtà sta andando alla grande è veramente spettacolare vedere come a volte sembra che le cose stiano andando male malissimo e invece non ci accorgiamo della grande fortuna che sta proprio succedendo e meno male che vanno male dunque ragazzi cominciamo subito dicendo che quando un 4 di bastoni si rovescia il nostro equilibrio viene un po intaccato quindi oggi nella giornata di oggi in questi giorni comunque ecco questa stesa è valida per il momento in cui la vedete qualcosa vi sta atturbando qualcosa ha minato la vostra stabilità le vostre fondamenta il vostro equilibrio che cosa è accaduto che cosa è accaduto che vi atturbato in realtà quello che è accaduto è che un qualcosa che voi pensavate avrebbe funzionato non sta funzionando proprio per niente ma proprio per niente con questo 6 di bastoni rovesciato o voi avevate un piano un progetto che sta andando in malora male oppure una parte della vostra vita sembra che stia andando in malora ma non è assolutamente così io credo che o davvero sta accadendo o davvero oggi sta accadendo in questi giorni qualcosa che ci ha un po scombussolati e che ci sta facendo sentire tanto ma tanto insicuri e ci sta facendo venire il dubbio che forse dovremmo cambiare strategia tattica piano proprio dovremmo completamente cambiare idea su delle cose però ecco in realtà sembra anche che ci rimaniamo male sembra che inizialmente inizialmente ci rimaniamo male inizialmente sembriamo un po dispiaciuti da questa cosa ma la meraviglia succede dopo perché in realtà proprio perché il nostro piano non sta funzionando proprio perché questa situazione non sta andando come noi vogliamo questo ci porta a diverse a fare diverse cose la prima cosa che ci porta a fare a osservare l'osservazione di ciò che succede e quindi questo osservare ci porta a vedere degli elementi nuovi che non avevamo ancora visto dei dettagli ai quali non avevamo ancora pensato e che in effetti avevamo davanti agli occhi ma siccome non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere certe cose erano lì e noi ci ostinavamo a dire che andava tutto bene la carta successiva è un sei di bastoni rovesciato con la con la carta egiziana della buscheda la ricerca quindi ecco che noi cominciamo appunto a pensare che forse dovremmo trovare un'alternativa un'alternativa migliore un'alternativa per per comunque fare quello che vogliamo e quindi ci mettiamo lì qualcuno di voi si mette proprio lì in ascolto segnali dell'universo qualcuno di voi si fa una bella lettura di tarocchi già vi vedo ragazzi allora i miei studenti tarocchi in mano a ricercare il modo per aggiustare questa cosa o per capire cosa fare vedo chi di voi è particolarmente incline a percepire i messaggi dell'universo e io so che fra di voi ci sono tante persone con una sensibilità incredibile estrema a tra l'altro fra un paio di settimana se non sbaglio uscirà un testimonial di una mia studentessa sensibilissima che vi consiglio di guardare perché veramente penso che vi ci ritroverete ed ecco che in questa ricerca proprio stiamo lì a sentire questi messaggi dell'universo a guardare osservare a cercare di capire bravi ragazzi tra l'altro vedo proprio che lo fate bene lo fate bene lo fate con attenzione e perché sapete che in questo momento l'universo rappresenta per voi una lavagna come dico nel corso di tarologia io infatti nel corso di tarologia non insegno solo a leggere i tarocchi ma insegno a leggere tutto le pietre le nuvole tutto perché in effetti è così che funziona l'universo è una grande lavagna e usare usare delle carte sopra un tavolo per leggere la nostra vita non è altro che concentrare il nostro universo in uno spazio più ristretto è un modo per dire alla nostra mente conscia e subconscia il mio universo è qui ma se noi alziamo la testa e ci guardiamo intorno il nostro universo è tutto quindi tutto ci dà segnali e stiamo proprio lì a guardarli questi segnali ottimo ragazzi ottimo davvero ma la cosa dove voglio arrivare quella veramente bella perché sembra tutta una tragedia invece non è proprio bella che vi sembrerà strano la guerra finale una meravigliosa guerra finale ma voi direte che cosa c'è di bello in una guerra beh quando muore la gente niente qua siamo tutti d'accordo ma in realtà è una guerra che ci porta alla carta del sole cioè che sia una guerra con noi stessi perché per forza dobbiamo trovare una soluzione o che sia una guerra con qualcun altro e io credo che riguardi qualcun altro perché penso che per molti di noi di voi questi intoppi derivano anche dal rapporto con altre persone dalla necessità di avere a che fare con altre persone quindi se stiamo parlando di relazioni è ovvio io da sola non posso stare in coppia devo avere per forza qualcun altro per farlo e se questa persona non collabora ecco non funziona quindi ecco che potrebbe scoppiare infine una lite o una guerra vera e propria fra voi e questa persona ma non temete adesso vi dico perché è bella e invece se si tratta per esempio di situazioni lavorative professionali beh a meno che noi non facciamo tutto da soli se non abbiamo nessun collaboratore è diverso però invece per quelli di noi che hanno un posto di lavoro in cui collaborano con altra gente io credo che proprio la presenza di altre persone sia il problema sia quello che sta bloccando un po tutto si sta un po sta colando tutto da guerra adesso andiamo al sodo adesso andiamo veramente a vedere perché in realtà a me piace questa stesa che sembra che sembra che sembra così disastrata perché quello che accade è una liberazione è una vera e propria liberazione le sensazioni che proveremo con questa energia saranno delle sensazioni di leggerezza non negative non come qualcuno che ha perso qualcosa di indispensabile oh mio dio ora come faccio no da un lato c'è il sì vabbè devo trovare una soluzione ok ma dall'altro lato c'è un porca miseria che peso che mi sono tolta ecco questo è quello che questo è quello che trapela da questa stesa che in realtà qualcosa che potrebbe apparentemente sembrare una perdita è una grandissima liberazione e voi stessi noi stessi ce ne accorgiamo ce ne rendiamo conto e la guerra finale che potrebbe essere proprio quel momento in cui noi scateniamo non so un litigio una discussione abbastanza importante o finalmente diciamo in faccia a una persona quello che pensiamo questo con questo non te la fa nessuno cioè se qualcuno prova a prendervi in giro no non è la giornata se qualcuno lo ha fatto fino ad ora beh io penso che adesso finirà questo problema e la carta del sole che è quella che dall'inizio sto guardando perché ci porta le buone notizie la carta del sole dice che noi ne usciremo stra contenti da questa cosa quindi io sono convinta io sono convinta che da questo oracolo uscirà davvero qualcosa di buono però ragazzi vi chiedo di commentarlo perché sono di commentare che cosa vi sta accadendo perché sono curiosa di capire di che cosa si tratta ma vediamo adesso che cosa gli angeli hanno da aggiungere alla nostra stesa e io vi ricordo comunque che se volete una lettura privata potete inviare una email oppure prenotarla dal sito internet stessa cosa se volete aggiungere alla lettura magari un'analisi karmica delle vite passate o una sessione di life coaching e quindi magari prendere un pacchetto e invece se volete informazioni sui video corsi mandate un whatsapp e qualcuno di noi vi ricontatterà ma vediamo un po che non cade la carta la devo prendere così asso di aria e infatti infatti una bella conversazione una bellissima discussione tante cose da dire tante cose utili che possono portare sicuramente anche a nuove idee quindi ecco non vedete questa guerra finale come necessariamente la distruzione di qualcosa ogni distruzione porta a delle rinascite e questa è proprio una carta che ci parla di nuove idee che escono fuori di e soprattutto di ci invita a dire la verità non dovete avere paura a dire la verità e se qualcuno lo fa con voi perché l'oracolo potrebbe ovviamente essere invertito beh sappiate che quella persona finalmente vi sta dicendo la verità quindi è comunque un momento secondo me di crescita per per tutti quindi ragazzi io spero come sempre di esservi stata utile spero che questa lettura vi possa aiutare a vivere meglio questo momento e per il resto noi ci vediamo alla prossima ciao